Un tocco per Alexandro che va al cross verso Chiesa di testa, la Juvengol con la prima marcatura ufficiale bianconera. Siamo tre contro tre di lì, Ronaldo, la palla deviata, arriva velocissimo da dietro, Chiesa, l'aria di rigore sinistro, la Juvengol con Federico Vendels-Chiesa. Di fronte a Hernandez, Chiesa senza paura lo va a sfidare, Chiesa tra le linee per Paolo Dybala, Dybala con il tacco per Chiesa, attenzione, Chiesa, la Juventus ha il vantaggio, minuto numero 18, Federico Chiesa. C'è la calcio di Chiesa, Chiesa punta la porta, Chiesa, Chiesa, Federico Chiesa, la Juventus ha il vantaggio, minuto numero 17, è corto il secondo tempo, la doppietta di Federico Chiesa. C'è la calcio di Chiesa. Morata, Morata in mezzo, Chiesa, la Juventus ha il vantaggio, in ultimo numero 20, cambia il parziale, Amarassi, Sampdoria 0, Juventus 1, Federico Chiesa. Morata, 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 Buffett, Ciazza, la Juventus ha il vantaggio, minuto numero 19, cambia il vantaggio e la Repfficio Chiesa. Grazie a tutti. La docile per Ronaldo in area, lo stop con di testa, lo riba, Chiesa, gol! La Juve in gol, è il pareggio di Federico Chiesa! Bello per Chiesa di testa, gol! 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 La Juve in gol! Chiesa, palla morbida verso Alvaro Morata, la sponda per Federico Chiesa, attenzione va la Juventus, Chiesa, Chiesa, Chiesa! La Juventus ha il vantaggio! Il numero 13 cambia il parziale allo stadio olimpico grande Torino, Torino 0, Juventus 1, Federico Chiesa! Chiesa ancora, prova Dubria, Carlo di Finte, va Federico, ancora Chiesa dentro il pallone, Kuluzeschi, Kuluzeschi ancora per Chiesa, Chiesa, Chiesa! Chiesa! La Juventus è il vantaggio! Federico Chiesa! Chiesa! Che esistenda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiesa, 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 doppio passo, Chiesa se la mette sul sinistro, tira, gol, gol, la Juventus, gol, Federico, Chiesa! Chiesa, scappa via Dantov che è già munito. Ancora Chiesa, 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 può calciare, Chiesa! Dopo un anno torna il gol e che gol Federico Chiesa! Rabio per Chiesa! 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 Federico Chiesa! 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 La piazza! Federico Chiesa! Secondo gol in campionato e la Juve è avanti! Chiesa! 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 Contro Bericcia! Lo salta secco, va giù Chiesa! Si rialza, la porta è vuota! Ancora Chiesa! 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 Va 2-0! Ancora Chiesa! He is a vuota! Canelinho Senior, la metà giù, Fagioli, poi Chiesa! 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 2-2 al 78esimo minuto! Chiesa! 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 2-2 al 78esimo minuto! Marte Chiesa Chiesa Piazza Martínez E ci porta avanti Federico Chiesa Torna al gol Torna a esultare 3 a 0 Torna a esultare Grazie a tutti Grazie a tutti